Buongiorno, sono Carlo Maron, docente e animatore digitale dell'Istituto Comprensivo di L'Orto Testino. Qui ci troviamo a Fontana Fredda, comune di Centro Uganeo. Ieri sono arrivati due monitor da 65 pollici che verranno utilizzati per la didattica in presenza e la didattica a distanza che supporterà con il nuovo avvio dell'anno scolastico i ragazzi a scuola e a casa. In collaborazione anche con Microsoft che ci ha supportato in questi mesi nell'implementazione della piattaforma Microsoft Teams e per questo motivo Microsoft ci ha scelti anche come scuola modello per il lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi e con l'Istituto Comprensivo in questo periodo di emergenza. Grazie a tutti.